Musica Si è spento a Brescia all'età di 92 anni il professore Bonaventura Macchiarola. È stato sindaco a Tramonti dal 1956 al 1960. Ancora fermi i lavori del campetto di Campinola. La cittadinanza chiede chiarimenti al sindaco. Grande affluenza di gente alla centenaria fiera di San Vincenzo in Corsano. Aperta la scuola di equitazione a Corsano. Intervista al titolare Rasmo Venoso. Censimento delle viti storiche per creare un museo a cielo aperto. Concerto di Pasqua Ravello in onore del bicentenario di Giuseppe Verdi. Nel coro il maestro Amorelli. Benvenuti ad una nuova edizione dell'ATG. Grande perdita per i cittadini di Tramonti. È venuto a mancare all'età di 92 anni il professore Bonaventura Macchiarola. Sindaco di Tramonti dal 1956 al 1960. Il sindaco, l'amministrazione comunale, la redazione dell'ATG e la comunità tutta esprimono ai familiari il più profondo cordoglio. Lo ricordiamo con affetto attraverso un filmato. Nato a Tramonti il 7 luglio 1920 e deceduto in Orzinuovi, Brescia, il 31 marzo 2013, giorno di Pasqua. Tramonti lo vuole commemorare per il servizio pubblico svolto in questo comune, quale sindaco della nostra comunità e quale insegnante alle scuole elementari. Ha ricoperto la carica di sindaco da agosto 1956 a dicembre 1960. Erano anni durissimi. Si iniziava la ricostruzione materiale e sociale del Paese, dopo il secondo conflitto mondiale e dopo l'alluvione del 1954. Le risorse erano scarse e problemi tanti da affrontare, oltre che con la povertà bisognava fare i conti con l'assoluta mancanza di infrastrutture. Pur in questa situazione generale e di grandi difficoltà, l'amministrazione, retta dal professor Macchiarola, seppe orientarsi, comprendere i tempi e individuare gli interventi prioritari che avrebbero avviato lo sviluppo del Paese. Iniziava un grande progetto di alfabetizzazione e distruzione della popolazione. In un contesto di arretratezza veniva data priorità assoluta all'educazione scolastica. Ogni frazione avrebbe avuto la sua scuola elementare, qualcuna anche due. Nel 1957 venivano completati gli edifici scolastici di Campinola, Cesarano e Pietre. Nel 1958 avviata la costruzione di quelli nelle frazioni di Capitignano, Figlino, Novella, Ferriera e Gete. Nel 1959 si avviava la costruzione delle scuole in Corsano e Pietre. Nel quadriennio altre opere pubbliche venivano avviate, acquedotto, fognature e strade, come quelle per la frazione Gete, fra Trugnano e Corsano, fra Capitignano e Pietre, fra Pietre e Cesarano. Si iniziava l'elettrificazione di molte zone rurali, si completavano le case popolari in frazione polvica. Per molti degli interventi e delle opere si attingeva i fondi della ricostruzione dopo l'alluvione dell'ottobre del 1954. Un quadriennio, come dimostrato, di intensa operosità e grande dedizione di impegno per il proprio Paese. Ad oggi sono ancora bloccati i lavori per la realizzazione del calcetto nella frazione di Campinola. Si aspetta l'ok da parte del Genio Civile per i calcoli del cemento armato. A Campinola sono iniziati i lavori per la realizzazione del campetto nell'area dove erano stati installati i prefabbricati nel periodo post-terremoto. Dopo tanti anni e dopo aver sentito ripetere di imminente inizio dei lavori, finalmente si sono visti tecnici ed imprese all'opera. Ma purtroppo si sono di nuovo fermati. I cittadini si chiedono quando riprenderanno. Chiediamolo al sindaco. Dopo una lunga peripezia per iniziare, finalmente si è potuto, come vedete, mettere in mano qui a Campinola anche il campetto. Tutti lo chiedono, tutti da tempo sono interessati alla realizzazione di quest'opera. Per me è diventato un motivo di applicazione particolare. Infatti, costantemente e quotidianamente ho dovuto, per iniziare, svolgere una serie di incontri, una serie di attività che appunto hanno permesso di iniziare. Ora, nel corso della realizzazione dell'opera, è venuta fuori la necessità di fare una variante. Per cui si è dovuto rimodulare il progetto e soprattutto si è dovuto fare nuovamente i calcoli del cemento armato. Per cui si è dovuto chiedere, e siamo in attesa, che venga approvata dal genio civile, appunto i calcoli del cemento armato. E' solo questo. Fermo restando che, naturalmente, c'è stato un dibattito con i proprietari del suolo, ma queste sono cose che sono in itinere e che credo che non abbiano grosse difficoltà per la risoluzione. Speriamo che tutto proceda per l'ultimazione in tempi rapidi. A Corsano si è svolta, come ogni anno e lunedì in Albis, la tradizionale Fiera di San Vincenzo, seguita dalla popolare processione e dall'entusiasmante spettacolo pirotecnico. Vediamo il filmato. Come tradizione vuole, è lunedì di Pasquetta a Tramonti e è il giorno in cui ricorre la Fiera di San Vincenzo, un'occasione per ritrovarsi e per scambiarsi ancora agli auguri pasquali. Anche quest'anno a Corsano si è registrata una notevole affluenza di persone provenienti anche dalla vicina costiera. Oltre all'aspetto prettamente mondano, va evidenziato il motivo religioso legato a questa giornata. Nel pomeriggio, infatti, vengono portate in processione per le strade del paese le statue di San Vincenzo e della Madonna dell'Addolorata. Ma stavolta, a causa delle cattive condizioni meteorologiche, la processione è stata rimandata al 5 aprile, giorno in cui il Santo è venerato. Uno straordinario spettacolo pirotecnico è l'atto conclusivo della giornata, offerto in segno di devozione e di ringraziamento. Restiamo nella frazione di Corsano. Presso il centro ippico Ranch Cantina del Casale sono aperte le iscrizioni per la Scuola di Equitazione Western, un hobby per grandi e piccini. Vediamo il servizio di Stefania Savino. In un'oasi incontaminata, dove flora e fauna fanno da padrona, il Ranch Cantina del Casale dà avvio alle iscrizioni per la Scuola di Equitazione Western. Il centro ippico, affiliato alla Federazione Italiana Turismo Equestre, sito nella frazione di Corsano, propone la stessa atmosfera di Sergio Leone. Non pistolio guerre tra clan, ma tanto entusiasmo in sela ad un cavallo. La Scuola di Equitazione, abilitata al rilascio di patentini agonistici o dilettantistici, organizza anche escursioni e tranquille passeggiate per coloro che vogliono distrarsi anche solo per poche ore. Salve a tutti, un ringraziamento al TG Tramonti che sta qua oggi da noi, dal Ranch Cantina del Casale. Il nostro ranch prevalentemente fa scuola di equitazione, si trova qua a Tramonti e poi si organizzano pure un po' di passeggiate a cavallo. Ci unisce un pochino la passione di questi animali, che ce l'abbiamo da tanti anni, la coltiviamo da parecchio tempo. Negli ultimi anni abbiamo deciso di trasmettere questa passione un pochino pure agli altri. Iniziando dai piccini fino ai più grandi e facciamo scuola di equitazione e un po' di trekking a cavallo. Siamo affiliati alla Federazione Italiana Turismo Equestre, rilasciamo dei patentini sia dilettantistici che agonistici. Niente, piacere nostro di avere qua tanti bimbi prevalentemente e grandi e di trasmettere questa passione pure agli altri. Grazie. I corsi organizzati a regola d'arte per ogni singolo cavaliere saranno tenuti da personale altamente qualificato, che adatterà i cavalli alle esigenze di ogni singolo bambino, principiante o professionista. Oltre le tante attività sportive presenti sul territorio, come la scuola calcio, la piscina, la pallavolo, il tennis, il calcio, il karate, la danza e il pilates, si aggiunge un altro sport fondamentale per la crescita educativa e culturale del nostro paese. È stato indotto dal comune di Tramonti il censimento delle viti storiche, per valorizzare il patrimonio della vite e realizzare così un museo a cielo aperto. E perché no, sfidare la vecchia vite di Maribor entrando nel Guinness dei Primati. Il vino, fenomeno di costume internazionale in profonda riconfigurazione, è il collante sociale legato al territorio d'origine, che ne racconta tradizioni, genti, storia e cultura. La Campania ha una storia millenaria legata al vino, considerata territorio estremamente evocato alla coltivazione della vite. Per questo motivo il comune di Tramonti ha indetto il censimento delle viti storiche. In relazione ad alcuni parametri assegnati, gli esperti saranno in grado di verificare quante e quali piante possono rientrare nella categoria di viti secolari o monumentali. A tal proposito, l'Osservatorio dell'Appennino Meridionale, d'intesa con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione, ha condotto una puntuale indagine sulle vigne storiche in Campania. Questo prezioso lavolo, raccolto in un volume edito nel 2012, è il risultato di anni di ricerche sopra luoghi nelle vigne e nelle cantine, realizzato attraverso l'apporto determinante di vignaioli, sindaci, amministratori e studiosi. La ricerca intende mettere sotto riflettori, correlando vini e paesaggio, un territorio che attraverso il turismo del vino deve fungere da tramite per lo sviluppo dell'economia locale. Grazie alla collaborazione tra l'Osservatorio dell'Appennino Meridionale e l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania nasce l'Associazione Vite, acronimo di Viticoltori del Tempo, il cui obiettivo è quello di promuovere e tutelare il patrimonio storico-culturale delle vigne storiche. Tra gli associati figurano, oltre al comune di Tramonti, anche le cantine nostrane, Apicella, Reale e Monte di Grazia. Il nostro tintore è annoverato fra i vitigni di più antico lignaggio, capace ancora di produrre vini eccezionali. In questi giorni, dal 7 al 10 aprile, si è svolto a Verona il Vinitali, appuntamento annuale che raccoglie produttori, importatori, tecnici, giornalisti e opinionisti da tutto il mondo. E la Campania, insieme ai vini della nostra Tramonti, è stata la prima regione d'Italia a potersi freggiare del bollino Vini da Vigni Storiche. A Ravello, un concerto per omaggiare un compleanno importante, il bicentenario di uno dei più celebri compositori italiani, Giuseppe Verdi. Tramonti presente con il maestro Giancarlo Morelli, parte integrante del Coro San Carlo di Napoli. Il 2013 è sicuramente un anno importante per il mondo della musica, ricorre infatti il bicentenario della nascita di due autentici geni, come Giuseppe Verdi e Richard Wagner. La programmazione culturale della Fondazione Ravello riparte dalla musica sinfonica. Dopo la pausa invernale, l'orchestra e il coro del Teatro San Carlo di Napoli hanno dato ufficialmente il via. Per questo straordinario concerto di Pasqua, intitolato Viva Verdi, è salito in cattedra il maestro Roberto Abbado, riconosciuto a livello internazionale come uno dei maggiori interpreti della musica romantica e moderna, che ha diretto l'orchestra partenopea in un programma che ha proposto alcune tra le pagine più belle e conosciute della sterminata produzione verdiana. In questo maggio, l'orchestra è stata accompagnata anche dal coro, dove era presente un nostro concittadino, il maestro Giancarlo Amorelli. Questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e vi diamo appuntamento al prossimo TG. Grazie per aver guardato il video.